O Dio nostro Padre, benedici questi fiori insieme alla nostra vita, essi sono il segno del nostro grazie per la casa famiglia costruita sull'esempio di Santa Paola Elisabetta, essi esprimono anche il nostro desiderio di accogliere i bambini e i ragazzi che abiteranno questa casa e come tuo padre dipingi il mondo con le tue meraviglie, fa che anche noi possiamo essere casa, strada, fiori, cioè riparo, creatività e colori per tutti. Grazie a 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 tutti.